Parole da leader. Andrea Schenetti è uno di quei calciatori, pochi in verità, mai banali in quelle che sono le dichiarazioni. Non è nuovo a metterci la faccia quando le cose non vanno bene. L'ho fatto anche questa volta parlando nell'immediata vigilia dell'impegno di Coppa Italia che vedrà oggi alle 18.30. Il Foggia ha opposto all'Avellino al Partenio Lombardi. Lui che la maglia rosso-nera la indossa da due stagioni ha lanciato messaggi chiari a tutti, a cominciare dai suoi compagni di avventura. Sicuramente da un po' tutti questi fattori. Il fatto di essere qua già da un anno ti permette di capire determinate dinamiche. E quindi magari rispetto a qualcuno che è arrivato quest'anno ti senti di dover dare qualcosa di più e far capire a chi è arrivato quest'anno che giocare per il Foggia non è come giocare per un'altra squadra. Come ho detto prima, noi siamo il Foggia. Abbiamo fatto delle partite non buone e dobbiamo avere una reazione. Dobbiamo avere una reazione assolutissimamente perché lo dobbiamo fare per la classifica e per orgoglio nostro personale perché non vogliamo essere quelli che siamo stati in queste quattro partite. Schenetti accosta il momento attuale ad un altro complicato vissuto nella passata stagione. Magari un pochino quello dopo Monterosi, dopo quando era andato via Mario Somma, che aveva dato le dimissioni. Magari mi ricordo un po' quel momento perché comunque questo momento qua io lo definisco delicato. Nel senso che comunque non siamo in una situazione di classifica come eravamo all'inizio dell'anno scorso. Abbiamo dimostrato comunque che possiamo fare qualcosa di importante, delle prestazioni buone. Quindi questo è un momento delicato perché non dobbiamo reagire per non andare a finire in un momento di difficoltà totale. Quindi questa è una linea sottile. Adesso siamo in un momento dove si aspetta di vedere un po' di che pasta siamo fatti. E quindi noi su questo dobbiamo reagire. Dobbiamo dimostrare che noi siamo quelli delle prime partite e non quelli di queste ultime. Infine la Coppa che può aiutare ad uscire fuori dal labirinto. Il Foggia non è tra quelle che la snobba e cercherà stasera il pass per continuare l'avventura nella competizione che oltre al trofeo mette in palio l'accesso alla fase nazionale dei play-off. Sì, è una partita di Coppa però sicuramente non è da sottovalutare perché giochiamo contro l'Avellino e sappiamo che comunque è una partita sentita e poi comunque è una competizione a cui teniamo. Poi il mister farà le sue scelte in base alla partita di domani però siamo consapevoli che comunque arriviamo da un momento non positivo e quindi anche la Coppa ci può dare fiducia per il proseguo del campionato. Grazie. Grazie. Grazie.